Brutta disavventura per una bimba di appena un anno, rimasta gravemente ustionata a causa dell'acqua bollente che le è caduta addosso. L'incidente è avvenuto a Ponticino, all'interno dell'abitazione in cui la piccola vive con la famiglia. Si tratterebbe di un incidente domestico i cui contorni sono ancora da chiarire. La bimba si trovava con i genitori al momento dell'incidente. Ha riportato ustioni di secondo grado sul volto, sul collo, sull'addome, sul dorso e sul torace. Non è in pericolo di vita sul posto e sanitari del 118 e di Carabinieri. Il 118 ha anche attivato l'elisoccorso Pegaso che è atterrato al campo sportivo del paese. La bimba è stata intubata e trasferita proprio con l'elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze.